E anche per Brescia si è aperta la sfida del dopo voucher, strumento particolarmente apprezzato in provincia, visti i 4,2 milioni di buoni lavoro staccati nel nostro territorio nel 2016. Da ieri anche sul nostro territorio dunque i nuovi strumenti per il lavoro occasionale, chiamati presto, pensati con lo scopo di colmare almeno in parte l'abolizione dei voucher, sono dunque ufficialmente disponibili. I nuovi buoni potranno essere utilizzati sia per attività domestiche che per liberi professionisti, pubblica amministrazione e associazioni di categoria. Secondo il nuovo metodo di pagamento l'imprenditore dovrà fare dei versamenti per alimentare un portafoglio elettronico e le prestazioni saranno saldate il 15 di ogni mese e non a non meno di 30 giorni di distanza. I voucher sono stati un fallimento, lo ha detto ai nostri microfoni Claudio Cominardi, deputato bresciano del Movimento 5 Stelle. I nuovi presto vanno a sostituire uno strumento che è stato fallimentare con un altro strumento con delle modifiche. Alcune di queste modifiche è il tetto massimo per il suo utilizzo all'anno sia per il prestatore che per il committente e soprattutto a fianco al presto ci sarà il libretto famiglia. Quindi alla fine ci saranno due strumenti anziché uno e si andranno a colmare nel senso che andranno a sostituire uno strumento che era molto diffuso per cui sicuramente andranno incontro a delle necessità però creeranno anche delle strutture, delle problematiche quando si parla poi di strumenti di questo tipo che riguardano tutti. Purtroppo non si può dire che sarà una soluzione al lavoro nero, lo dovevano essere anche i voucher e non lo sono state. Purtroppo da anche degli esperti che hanno ragionato rispetto a questo nuovo strumento pare che ci siano delle scappatoie anche rispetto a questi presto e rispetto anche al libretto famiglia. Bisogna solo vedere e aspettare i prossimi mesi per capire se effettivamente è stato pensato il tutto al meglio, io ho se di dubbi. Le ricadute le hanno nella misura in cui questo strumento verrà utilizzato e sappiamo bene soprattutto se pensiamo alle famiglie di quante hanno la necessità di un supporto minimo di lavoro, pensiamo dai piccoli di lavoro, pensiamo alle ripetizioni a scuola, per la scuola, pensiamo piuttosto all'assistenza per gli anziani che è un problema molto sentito dalle nostre parti e quindi ricadute le avranno senza dubbio. Bisogna però capire effettivamente quali strutture si verificheranno e se ci saranno più vantaggi rispetto agli svantaggi, sia per chi ha una piccola attività, sia per le famiglie che devono usufruire e sia poi per i prestatori della propria professionalità, del proprio lavoro. Una cosa che mi rammarica sicuramente è il fatto che ci siamo trovati nel 2014 ad approvare questi nuovi voucher, cioè nuovi voucher nel 2014 a seguito del Jobs Act che sono stati fallimentari, ne sono stati erogati 150 milioni circa le ultime stime che hanno creato, non hanno risolto il problema del lavoro nero e non hanno risolto il problema dell'occupazione, anzi hanno creato dei mini jobs e una categoria di nuovi sfruttati. Presto non so se avrà gli stessi numeri di voucher, avrà comunque dei numeri molto importanti, perché in un tessuto produttivo come quello bresciano sicuramente c'è una grossa necessità, di uno strumento che è venuto a mancare dalla sera alla mattina quando sono stati aboliti i voucher. Quindi farà sicuramente grossi numeri.